Una stagione da record per Stefano Turati, nel primato del Frosinone ad un passo dalla promozione diretta, ci sono i guantoni del portiere di proprietà del Sassuolo. Il salvataggio al novantesimo sul colpo di testa di Nandez, sabato scorso a Cagliari, ha permesso ai giallazzurri di uscire imbattuti dalla Unipol Domus, allungare la striscia di risultati positivi e soprattutto tenere a distanza le dirette inseguitrici. Sempre presente nel cammino del Frosinone, Turati, nonostante la giovane età, è uno dei leader dello spogliatoio, reattivo tra i pali, abile nelle uscite, il 22 giallazzurra ha conquistato tutti, curva nord compresa, anche grazie al suo carattere da autentico trascinatore. In ciociaria, dopo la prima stagione in Serie B giocata lo scorso anno con la maglia della regina, il portiere milanese, in pianta stabile tra i convocati dell'Under 21 azzurra, ha trovato continuità e un ruolo di primissimo piano nell'undici di Fabio Grosso, il tecnico che ha costruito il suo Frosinone da primato su una difesa da record. Soltanto 20 sono infatti gol subiti, ben 19 sono invece le volte che la porta giallazzurra, anche grazie alle parate di Stefano Turati, è rimasta imbattuta, un dato straordinario, addirittura impressionante allo stirpe dove sono 12 su 16 partite totali, i clean sheet, numeri da record e un cammino meraviglioso che vede ormai vicinissimo il traguardo di arrivo.